Un nuovo logo ed anche un evento in programma il prossimo 25 marzo, un concerto sinfonico dal titolo L'amor che muove il sole e le altre stelle, che si terrà presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno con inizio alle 11.30 in occasione delle celebrazioni nazionali dedicate alla figura di Dante Alighieri. Inizia così il nuovo corso del Conservatorio di Musica Giuseppe Marturci di Salerno, dove si è insediato il nuovo direttivo alla presidenza, l'avvocato Luciano Provenza. Oggi con il direttore Fulvio Maffia la prima uscita ufficiale di fianco al sindaco di Salerno con parole di elogio rivolte non solo alla ministra Bernini che lo ha scelto ma anche a professori ed alunni del Conservatorio. Da tempo il Conservatorio Martucci costituisce una vera fucina di talenti con allievi che si sono affermati a livello internazionale. Sono orgoglioso, veramente onorato di poter ricoprire questa carica così prestigiosa. Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini per avermi scelto perché guardate, il Conservatorio è l'ultima, anzi l'unica sede istituzionale universitaria nella città di Salerno. Come tale noi dobbiamo difenderla, tutelarla, rafforzarla. Io approfonderò tutte le energie possibili per intercettare risorse per garantire al popolo del Conservatorio, ossia i docenti nell'espletamento del loro munus e i ragazzi nell'apprendimento, tutte quelle condizioni per fare bene. Direttore c'è anche un nuovo logo per segnare questo nuovo percorso del Conservatorio. Sì, abbiamo fatto una collaborazione, abbiamo stretto una convenzione con l'Accademia Belle Arti di Napoli dove è stata istituita una bosta di studio pari ad euro 1.500 euro, c'è stato un concorso di idee, c'è stata una commissione che ha valutato ed abbiamo oggi il nuovo logo fatto dagli studenti dell'Accademia Belle Arti di Napoli. Grazie a tutti.